un giorno mentre fuori pioveva a catinelle la mamma di miffy disse questo è un giorno perfetto per dipingere la tua stanza miffy è da molto tempo che non viene dipinta che bell'idea disse miffy posso aiutarvi certo disse papà bunny ma prima di tutto dobbiamo togliere ogni cosa dalla tua stanza miffy disse ho tanti disegni attaccati al muro poi ho il mio armadio e il mio letto e la mia mensola non possiamo dipingerci intorno non se ne parla proprio disse la mamma di miffy dobbiamo togliere ogni cosa dalla stanza solo così potremo dipingere ben bene le pareti molto bene disse miffy vi aiuterò prima toglierò tutti i miei disegni dal muro ma non posso spostare il mio letto o l'armadio o la mensola tua madre io sposteremo le cose pesanti miffy tu pensa a scegliere il colore che desideri per la tua stanza io ho parecchi colori da scegliere nel mio laboratorio così mentre sua madre e suo padre toglievano dalla sua stanza ogni cosa miffy cominciò a pensare di che colore desiderava fosse dipinta la sua stanza se scegliessi il blu avrei la sensazione che fosse sempre notte disse se scegliessi il rosso mi sembrerebbe troppo caldo se scegliessi il verde la mia stanza sembrerebbe uguale al mio giardino se scegliessi il bianco sarebbe dello stesso mio colore e mi sembrerebbe di perdermi tra le pareti miffy guardò fuori dalla sua finestra e vide uno splendente tulipano giallo se la mia stanza fosse gialla come quel tulipano sarebbe sempre luminosa e solare disse miffy finalmente papà banni disse ho un giallo delizioso tra i miei colori io dipingerò la parte alta delle pareti miffy e tu potrai dipingere la parte più bassa ora imparerai come si dipinge la mamma disse prima devi metterti un grembiule miffy sarebbe proprio un peccato sporcare i tuoi bei vestiti con la pittura così miffy si mise un grembiule e suo padre con molta attenzione preparò la pittura color giallo splendente prese un grande pennello e ne diede uno più piccolo a miffy poi cominciarono a lavorare miffy disse papà banni prova a dipingere su e giù così come faccio io miffy imparava molto velocemente presto la stanza fu dipinta di un grazioso e allegro color giallo e le cose di miffy tornarono tutte al loro posto miffy era molto felice la sua stanza era fresca luminosa e pulita è una cosa piacevole disse avere una stanza appena dipinta e io ho contribuito a dipingerla boris e barbara bear stavano pensando al compleanno di miffy che cosa possiamo regalarle? domandò barbara bear bene disse boris bear sta per arrivare la primavera e miffy si diverte a guardare ogni anno gli uccellini potrei farle una casetta per uccellini così potrà guardarli tutti i giorni oh che idea fantastica boris bear disse barbara bear dovrebbe essere di un colore luminoso così da attirare le mamme degli uccellini ne farò una uguale alla casa di miffy solo un molto più piccola per far entrare solo gli uccellini ho una foto della casa di miffy che mi aiuterà boris bear scelse alcune delle sue migliori tavole di legno per fare i muri una tavola rigida per fare il pavimento e due resistenti per fare il tetto prima fece un disegno che mostrava le dimensioni delle tavole e come unirle e inchiodarle tra loro poi boris bear prese le misure dei pezzi di legno con il suo speciale righello e usò una matita per segnare il punto in cui avrebbe tagliato fissò il legno al suo tavolo da lavoro così sarebbe rimasto fermo e poi prese una sega molto affilata segò nel punto preciso dove aveva fatto il segno con la matita fece questo con tutti i pezzi di legno della casa per uccellini finché non li ebbe tutti tagliati a misura dopo usò il martello per fissare insieme tutte le tavole il risultato fu una perfetta piccola casa userò il mio trapano per fare un piccolo buco largo abbastanza per far passare la mamma uccello così porterà dentro rametti ed erba per costruire un comodo nido ora è pronta puoi dipingerla barbara bear disse boris bear barbara bear aveva molti barattoli di vernice e un pennello per ogni colore ben presto la casetta per gli uccellini assomigliò sempre più alla casa di miffi con una sola piccola differenza il giorno del compleanno di miffi boris e barbara bear portarono la casetta per uccellini a casa di miffi e la misero in giardino buon compleanno miffi dissero boris e barbara bear abbiamo una sorpresa per te vieni a vedere a miffi piacque molto la sua casetta per uccellini assomiglia a casa mia disse miffi ma c'è una differenza al posto della porta c'è un piccolo buco è una porta per gli uccellini disse boris bear non per i conigli tutti risero oh che bello avere degli amici così bravi disse miffi il vostro regalo mi ha reso molto felice ed ha reso ancora più felice la mamma uccello ora possiamo essere tutti molto felici miffi lesse una fiaba nella quale c'era una fata che esaudiva tre desideri così cercò di pensare cosa avrebbe desiderato se una fata le avesse dato modo di realizzare tre desideri la prima cosa che vorrei è che mio padre e mia madre mi vogliano sempre bene disse ma lei già sapeva che sua madre e suo padre le avrebbero voluto bene per sempre così provò a pensare a un altro desiderio decise di andare a fare una passeggiata era sicura che avrebbe riflettuto molto meglio mentre passeggiava era snaffi che come sempre era molto felice di vedere miffi vuoi venire con me? chiese miffi mentre erano fuori a passeggiare miffi e snaffi incontrarono eggy che aveva un braccio fasciato ciao eggy disse miffi cos'è successo al tuo braccio? sono caduta mentre andavo sui pattini a rotelle disse eggy e mi sono fatta male al braccio spero tanto che il tuo braccio guarisca presto disse miffi grazie miffi disse eggy questo fu il primo desiderio di miffi se il mio desiderio si avvererà il braccio di eggy domani starà già meglio pensò mentre salutava la sua amica quando miffi e snaffi si inoltrarono nel bosco cominciò a piovere miffi non si era ricordata di prendere un ombrello per la sua passeggiata oh povera me disse miffi vorrei che non piovesse mai e che ci fosse sempre il sole miffi si sorprese quando vide che improvvisamente la pioggia si fermò e uscì il sole ho sprecato il mio secondo desiderio disse se ci sarà sempre il sole e non pioverà più gli alberi non cresceranno ora le restava solo un ultimo desiderio il mio ultimo desiderio vorrei che fosse qualcosa di molto simpatico disse a snaffi miffi pensò e ripensò mentre camminava guardandosi intorno e cercando di trovare qualcosa da desiderare camminò su un prato pieno di fiori miffi pensò alla sua mamma e decise di raccoglierne alcuni per poterli portare a casa ma la mia mamma preferisce i fiori gialli disse miffi io vedo molti fiori rossi e molti fiori blu potrei usare il mio ultimo desiderio per trovare dei fiori gialli proprio poco più avanti apparve un intero prato pieno di fiori gialli ora posso usare il mio ultimo desiderio per qualcos'altro disse miffi vorrei avere un buon gelato miffi raccolse un bellissimo mazzetto di fiori per la sua mamma avere tre desideri è una gran bella cosa disse miffi cominciando a dirigersi verso casa quando miffi diede a mamma bunny il mazzetto di fiori gialli lei ne fu molto felice oh miffi disse sono così belli i fiori gialli sono i miei preferiti ho riservato il mio ultimo desiderio per un buon gelato disse miffi tu sai cosa desidero io vorrei che la mia piccola miffi fosse sempre dolce proprio come è adesso e diede a miffi un grande e furtissimo abbraccio dopo mamma bunny andò in cucina e diede a snaffi una ciotola di acqua fresca e a miffi un buon gelato è tempo di vacanze durante questo periodo la scuola rimane chiusa miffi la sua mamma e il suo papà erano pronti a partire per le vacanze miffi guardò la mappa in modo da poter vedere dove sarebbero andati un anno erano andati al mare quest'anno volevano andare in montagna mamma bunny disse dobbiamo mettere in valigia indumenti caldi perché mamma domandò miffi siamo in estate vedrai miffi forse rimarrai sorpresa papà bunny controllò che fosse tutto a posto e sicuro per un viaggio in auto in montagna a quel punto partirono prima salirono su delle bellissime colline poi attraversarono il bosco e infine salirono su delle montagne miffi si accorse che più salivano più faceva freddo quando si fermarono per uscire a vedere il meraviglioso panorama dovettero indossare abiti più pesanti salirono sempre più in alto miffi cominciò a notare che per terra c'era della neve che strano disse miffi la neve in estate ora capisci miffi più si sale in alto sulle montagne più fa freddo sulle montagne molto alte c'è la neve tutto l'anno disse mamma bunny quando arrivarono proprio in cima alla montagna c'era neve dappertutto possiamo giocare con la neve come in inverno chiese miffi certo perché non dovremmo farlo disse papà bunny miffi e i suoi genitori fecero un pupazzo di neve poi si divertirono a giocare a palla di neve presto arrivò il momento di scendere giù dalle montagne mentre scendevano piano piano cominciò di nuovo a fare caldo infine arrivarono sulle rive di un bellissimo lago qui è dove trascorreremo le nostre vacanze disse mamma bunny guarda miffi c'è qualcosa che ti sta aspettando un'altra sorpresa gridò miffi prima la neve e ora la barca che meravigliose vacanze mentre la sua mamma sistemava tutto il necessario per potersi fermare in quel posto miffi e il suo papà andarono verso la barca ci salirono sopra e partirono per un bel giro in barca intorno al lago quando tornarono miffi vide che mamma bunny aveva acceso il fuoco e aveva preparato una zuppa deliziosa queste sono davvero delle meravigliose vacanze ogni mattina miffi guardava fuori dalla sua finestra e aspettava l'arrivo della posta sperava che un giorno sarebbero arrivati per lei o una lettera o una cartolina mamma bunny disse perché non vai a vedere se c'è posta oggi miffi miffi andò davanti alla porta per dare un'occhiata e vide che c'era della posta la prese subito e la portò sul tavolo in cucina bene abbiamo il giornale di oggi disse mamma bunny e abbiamo una lettera per me da parte di tua zia alice e guarda miffi c'è una bellissima cartolina indirizzata a te da parte della tua amica melanie oh che emozione disse miffi la sua amica melanie era in vacanza con i suoi genitori la cartolina aveva un simpatico francobollo guarda mamma ci sono dei piccoli disegni fatti proprio da melanie melanie ha disegnato un sole sulla cartolina disse miffi questo significa che da loro fa bel tempo e oltre al sole ha disegnato anche delle linee ondulate sembrano onde questo significa che stanno nuotando nel mare guarda c'è persino un disegno di un pesciolino dai colori brillanti sì disse la mamma di miffi melanie è davvero una brava coniglietta ha disegnato anche una faccia sorridente questo significa che si stanno divertendo molto e guarda ha disegnato anche un piccolo ritratto di se stessa in modo che tu sappia che è stata proprio lei a spedirti questa cartolina vorrei spedire una cartolina anch'io a melanie e vorrei disegnarci sopra un mio ritratto disse miffi ecco una cartolina che puoi usare disse la mamma di miffi puoi fare anche altri disegni per melanie perché non fai il disegno della nostra casetta così miffi prese la cartolina e tirò fuori i suoi colori e guardò con attenzione la sua casa sì pensò il mio disegno assomiglia proprio alla nostra casa poi miffi voleva disegnare dei fiori sulla cartolina così andò in giardino dove stavano crescendo dei bellissimi fiori guardò con molta attenzione un fiore e poi lo disegnò sulla cartolina proprio in quel momento una graziosa farfalla si posava sul fiore e miffi subito disegnò anche la farfalla a quel punto miffi tornò dentro per fare gli ultimi disegni disegnò un ritratto di se stessa e di melanie così melanie capirà quanto le voglio bene pensò miffi miffi colorò i suoi disegni alla casetta bianca fece un tetto rosso le imposte rosse e le finestre verdi fece dei fiori rossi con delle foglie verdi colorò la farfalla di giallo lasciò bianco il suo ritratto e colorò di marrone quello di melanie erano molto carine insieme miffi mise un francobollo sulla sua cartolina e poi andò a spedirla con cura infilò la cartolina nella cassetta della posta tornando verso casa miffi pensò la posta è una gran bella cosa possiamo stare insieme ai nostri amici anche quando siamo lontani da loro e infatti melanie fu felicissima della sua cartolina miffi miffi corri e vai con i tuoi amici ti divertirai snaffi, granti, boris e anche pop è qui con te